bentornati amici oggi siamo con il dottor emmanuele luzio che da anni lavora e vive in america latina partito da studente e rimasto per un nuovo progetto di vita innanzitutto ringraziamo il nostro ospite per averci concesso questa breve intervista iniziamo subito come mai è andato a lavorare all'estero la classica fuga di cervelli me sono andato all'italia nel 2009 se non ricordo male in quell'anno stavo facendo il primo anno del dottorato in fisica è stato l'anno del terremoto dell'aquila mentre stavamo alla tendopoli un mio amico che è diventato professore all'università di santiago di cile mi disse se avessi voluto voglia di continuare il dottorato in cile ma avrebbe aiutato e io ho pensato che sarebbe stata una buona idea provare a fare un'esperienza all'estero e quindi questa è la prima volta che sono andato a vivere fuori dall'italia sono stato sei mesi e lì iniziato un processo di cambiamento per cui ho iniziato a percepire che c'erano altri modi di vivere che non fosse lo stile di vita italiano sono tornato sei mesi dopo e ho fatto richiesta per un'altra borsa di studio me l'hanno accettata sono andato per un altro anno a santiago del cile però questa volta con un'altra linea di ricerca e lì ho iniziato un po' a lavorare quello con che poi sarebbe diventato il mio lavoro cioè modelli di inferenza statistica qui già stiamo parlando del 2011 sono tornato in italia ho finito il dottorato nel frattempo ho conosciuto la mia ex ragazza che era argentina e già avevo capito che non c'era futuro qua in italia e ho deciso di fare un salto nel buio e sono andato a vivere con lei a cordova e quindi mi sono dovuto un po' reinventare da fisico teorico cercare di trovare un lavoro in un mondo che non fosse l'accademia e lì i primi anni sono stati un po' duri poi per una serie di eventi che escono dalla mia possibilità di controllo è iniziato nel mondo della delle start up a prendere piede quello che adesso lo chiamano come il mondo del machine learning data science sempre più iniziato avere una grande richiesta per profili come i miei che hanno una base di investigativa di ricerca però capaci anche di sapere programmare e lì sono riuscito ad entrare a lavorare una prima start up quindi ho riuscito a transizionare dal mondo della della ricerca al mondo della dell'industria privata è stata la mia prima esperienza al di fuori della dell'accademia così ho iniziato a lavorare in nel mondo delle t sono stato prima in una una piccola start up che poi è stata acquisita da una grande impresa statunitense e poi ho lavorato per una software house sempre facendo lo stesso tipo di lavoro e poi sono approdato a mercato libre perché questa software è stata comprata da mercato libre è niente adesso sto lavorando per mercato libre a montevideo è stato difficile ambientarsi da italiano in una società straniera molto molto perché il problema con l'italiano è che siamo molto attaccati alle nostre radici e non percepiamo che esistono altre forme di fare le cose altrettanto buone altrettanto valide e quindi la prima reazione quando esci all'italia è questo non va bene così bisogna fare un'altra forma e questo ha portato ha spesso a attriti con conoscenti e in realtà è un preconcetto che abbiamo noi e che dobbiamo ci vuole tempo imparare a come si sa a resettarlo per iniziare a a capire che la realtà è molto più complessa di come la vediamo noi però poi succede una cosa che è l'effetto opposto già quando quando ogni volta che ritorno italia mi rendo conto di quanto siamo rimasti indietro proprio per questo rifiuto che ci abbiamo verso la innovazione tutto ciò che non viene dalle tradizioni come visto il lavoratore italiano all'estero gli posso parlare sono stati latino america che storicamente una terra di emigrati italiani e sempre vista con affetto l'italia dal dagli emigranti dai descendenti degli emigranti lavoratori lavoratori come nati e cresciuti in italia ma poi emigrati come prima generazione come io ne ho conosciuti pochissimi forse uno non ti saprei dire come sono visti all'estero ti posso dire che in argentina sono considerati dei gran lavoratori questo sì come vista l'italia dall'estero il classico stereotipo un popolo di santi di navigatori e di poeti stereotipo di santi dei altri poeti è uno stereotipo italiano non esiste all'estero nessuno considera italiani un popolo di navigatori santi e poeti sì l'italia è conosciuta come il paese del buon vivere dove la qualità della vita è molto alta dove la gente si preoccupa più per la qualità di ciò che mangia e come veste i miei discorsi spesso ruotano sul fatto che con i miei amici stranieri che continuano a ripetervi che che bel paese l'italia e gli dico è un bel paese se non ci devi vivere perché se ci devi vivere poi ti rendi conto che non è così bello e sopravvivere è piuttosto difficile penso che sia uno dei pochi paesi dove gli stereotipi sono migliori del paese reale nel paese in cui vive e lavora come è stata gestita la pandemia in uruguay fino a poco tempo fa la pandemia quasi non c'è arrivata i casi erano veramente pochi per qualche ragione e quindi la vita ne era pochissimo influenzata come ultimamente credo per un rilassamento totale della popolazione da aumentare i casi comunque sono sempre minori rispetto agli altri paesi ma fino a dicembre fino al 5-6 dicembre che la data in cui sono arrivati in italia la vita era quasi normale io non ho avuto problemi continuava andare in palestra a uscire in barca avermi con gli amici non c'erano grosse limitazioni se non per il fatto che erano chiuse tipo le discoteche o gli uffici erano limitati gli orari di lavoro ma a parte questo per qualche ragione in uruguay non ha attaccato tanto il coronavirus però mi stavo dicendo che adesso invece la situazione sta cambiando e hanno rivalutato alcune alcune misure per per limitare la il contagio grazie per avermi invitato e speriamo di rivederci presto ringraziamo il nostro ospite per il tempo che ci ha concesso vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri canali facebook e youtube